Si chiama casa ed è un progetto europeo cui hanno partecipato 13 regioni di vari paesi della comunità tra cui l'Italia. Il progetto che si è concretizzato tra il 2012 e il 2014 aveva come obiettivo fondamentale il mettere a confronto le soluzioni assistenziali, organizzative e tecnologiche che ciascuna regione sta attuando per poter assistere le persone fragili, anziani, disabili e malati cronici nei propri luoghi di vita. La Regione Veneto ha delegato l'ULSE 20 quale rappresentante regionale nel progetto. Il progetto si è sviluppato attraverso 13 incontri a cadenza mimestrale ciascuno organizzato da una delle regioni partecipanti. In ciascun incontro della durata di tre giorni la Regione ospitante ha illustrato l'organizzazione del proprio sistema assistenziale sanitario e sociale, i trend di evoluzione programmati e di principali progetti innovativi nell'assistenza alle persone fragili. Sono state effettuate numerose visite per poter prendere conoscenza diretta dei diversi progetti attraverso l'interazione con gli operatori coinvolti e, talvolta, con alcuni assistiti. Il progetto è stato completato con pieno successo, nel senso che ciascuna Regione ha potuto confrontarsi con i programmi di innovazione assistenziale del resto d'Europa e trarne spunto per migliorare ed arricchire le proprie iniziative.